Ecco MyPot, il sistema rivoluzionario per la bioponiaca modulare, facile da usare ed ecologica al 100%. MyPot è una struttura a forma di torre modulare impilabile con un gran serbatoio alla base. In esso viene immagazzinata l'acqua e la soluzione di nutrienti biologici MyFertiPot che agisce da fertilizzante e stabilizzante organico per una perfetta crescita delle piante. Una piccola pompa a basso consumo distribuisce l'acqua e i nutrienti nelle vaschette superiori che favoriscono la crescita rapida e naturale delle piante. MyPot è un metodo di coltivazione biologica intelligente, semplice e sana, ideale per allevare le tue verdure, la frutta e le piante ornamentali preferite. MyPot, il modo intelligente di fare giardinaggio.